Ben ritrovati, ben ritrovati. Oggi è la giornata di giovedì 22 maggio. È una puntata particolare. Parleremo di arte e poi ci sarà una sorpresa conclusiva. Per parlare di arte parliamo in particolare di fotografia, ma non solo. E lo facciamo grazie ad una preziosa collaborazione o consulenza che dir si voglia, ma soprattutto grazie alla presenza gentile, cortese e di questo gliene siamo estremamente grati, del nostro ospite di questa mattina. Si tratta di Enrico Gusella, critico e scrittore. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti i vostri telespettatori. Grazie di essere con noi. Per il dottor Gusella si tratta tra l'altro di una premiere. È la prima volta che è ospite della nostra trasmissione del mattino. Questo ci fa molto piacere perché, insomma, come già abbiamo avuto modo in altre occasioni di sottolineare, ci piace, come dire, alleggerire un po' quelli che possono essere temi talvolta un po' pesanti della nostra quotidianità, quelli che ci affligolano maggiormente. Però, ovviamente, parlando di temi più leggeri non è che parliamo di frivolezze, parliamo di cose estremamente interessanti. Anzitutto Enrico Gusella, una persona che poi ci parlerà anche di tante esperienze che ha vissuto, ha curato moltissime mostre, anche mostre prestigiose, si è cimentato in un libro, di cui in particolare parleremo, che si chiama Sulla fotografia e oltre, edito a cura di Alemandi e C. Sulla fotografia e oltre, anzitutto quell'oltre, che cos'è? Quell'oltre, come dire, è motivo di curiosità, ma soprattutto anche elemento, testimonianza, per affermare che ci sono tanti segmenti all'interno di una disciplina delle arti, come la fotografia. E quindi, in questo contesto, soprattutto in questo prezioso libro, ho cercato soprattutto di dare tutta una serie di elementi e di interessi che potessero essere motivo appunto della curiosità del lettore, e quindi cercare di andare oltre, come dire, un elemento che si chiudesse all'interno del solo genere, per affrontare invece la complessità anche del genere fotografico. Perché ovviamente non parlo soltanto del paesaggio, del ritratto, parlo dei mondi legati alla fotografia. E questa può essere una delle spiegazioni dell'oltre, oltre chiaramente a quelli che sono studi, ricerche e così via, che ne caratterizzano anche il quadro, tale per cui sono diventato, come avevo visto in sovrapprensione il titolo, un testimone dell'arte, perché rientra nella collana di Allemandi questo libro. Ed è particolarmente suggestivo anche come terminologia, testimone dell'arte. Le chiediamo appunto di analizzare un momento questa terminologia. Testimone dell'arte perché, soprattutto Enrico Gusella, è una persona che è appassionato di quella che rappresenta effettivamente la narrazione dell'immagine, perché ovviamente un'immagine può raccontare come raccontano le pagine di un libro. E diciamo che proprio in questo volume c'è la felice sintesi, nonché proprio incrocio di questi due modi di raccontare. Sì, beh, il libro fa parte appunto di questa collana di Allemandi che si intitola I testimoni dell'arte. Credo che già vi ricordare gli illustri, molto più noti e qualificati dal sottoscritto autori che vi sono, tra cui Tom Wolf, poi Giorgio Guglielmino, Luisa Buac, Angela Vettese, che è una notissima famosa storica dell'arte, nonché anche assessore alla cultura del Comune di Venezia. E poi Alessandra Ruffino con i suoi studi su Caravaggio. Ecco, questo mi pare, come dire, il quadro che in qualche modo contestualizza, no? Cioè, il fatto che esistono dei testimoni dell'arte. Ecco, quindi esistono coloro che in qualche modo, attraverso il loro contributo teorico, scientifico e di studio, in qualche modo vanno a dare... Un famoso semiologo l'avrebbe chiamata la forma dell'impronta, che è Flosch, questo semiologo francese, ed è appunto uno che poi sulla fotografia ha scritto analisi, letture importanti, tipo su Cartier-Bresson, che è stato uno dei più grandi fotografi del Novecento, insomma, ecco. E colui da cui molti hanno attinto. Quindi questo per dire, appunto, è per inquadrare il quadro su cui, in pratica, si crea questo tipo, come lei diceva, di narrazione dell'immagine. E quindi è il quadro su cui ho cercato di analizzare, di raccontare le poetiche di molti fotografi italiani e stranieri. Ma, oltre a questo, ho cercato anche poi di creare, come dire, elementi di lettura, di analisi. Uno dei testi su cui poi, in qualche modo, do elementi di interesse è appunto il rapporto fra testo visivo e testo verbale. Ed è questo preso in considerazione all'opera di un grande poeta e scrittore padovano, che era Diego Valeri, insomma, a seguito appunto di quella che è stata anche la sua indagine, la sua ricerca letteraria di scrittore e così via. Però, ovviamente, il libro è strutturato attraverso capitoli, attraverso generi. Se vuoi fare qualche domanda, se no proseguo. No, no, la stavamo ascoltando... Con molto interesse. Sì, con molto interesse, ma più che altro, perché il dubbio che... Io non so poi quale sia il, come dire, il canovaccio della situazione. Nel senso, se dobbiamo essere... Descrittivi, lei dice. No, perché se no ci vorrebbero... Oppure se devo riferirmi a un famoso testo, l'ironia di Marina Mizzaro. No, diciamo che l'interesse, la curiosità e anche, in qualche modo, la perplessità che può suscitare la stesura, la realizzazione di un testo così complesso è i criteri di scelta, perché uno dice... Ma, per esempio, ci sono grandi come Man Ray, come Helmut Newton, però, per esempio, altri nomi possono mancare. E, per esempio, da un punto di vista della trasversalità cronologica, si arriva addirittura ai giorni nostri con un personaggio come Anton Corbin, che è stato il fotografo, per esempio, delle icone del rock degli ultimi 20-30 anni. Certo, bisogna ricordare che, in pratica, questo libro raccoglie i miei saggi, le mie recensioni, appunto, sulla fotografia dai primi anni 90 all'anno scorso, alla morte, alla scomparsa, appunto, di un grandissimo fotografo italiano, quale è stato Gabriele Basilico, appunto, il fotografo delle città, delle periferie, del paesaggio urbano. E quindi, sì, c'è stato il giornale dell'arte, che ha titolato nel mese, appunto, di aprile I grandi amici di Gusella, dove c'era un'intervista, guarda caso, io apro questo libro con un'intervista del 95, che è ripresa dal quotidiano La Repubblica, alla redazione di Napoli, a Mimmo Iodice. E la stessa copertina è un affresco di Pompei di Mimmo Iodice, per cui, ed è un affresco anche molto significativo, e credo che, come dire, la copertina è molto efficace d'effetto, perché chiaramente c'è questa immagine molto particolare. Forte, forte, sì. E, appunto, stavo dicendo questo, perché poi, appunto, il libro raccoglie, giustamente, come lei diceva, non solo i grandi autori, che chiaramente vanno letti, interpretati, secondo anche un'ottica oggettuale, ma anche, ecco, uno degli autori che ha colpito molto, che si è visto che figura all'interno del libro, e tra l'altro in un'idea di paesaggio, come si potrebbe definire, è lo stesso Andrei Tarkovsky, altro grande cineasta russo, di cui, invece, sono celebre molte sue fotografie dedicate, soprattutto, alla Toscana, il suo periodo in cui lui ebbe modo di cimentarsi con la macchina fotografica. E quindi questo aspetto, come dire, che vede anche raccolti, a parte il fatto del grosso legame fra cinema e fotografia, cinema e architettura e così via, però, come dire, c'è anche l'aspetto che fa scoprire autorevolissimi artisti, registi, interpreti, appunto, dell'immagine che in qualche modo potevano sfuggire anche agli occhi di qualche lettore, insomma, per cui questo mi sembra un elemento importante, no? In cui ritrovare identità e dove in qualche modo c'è anche un motivo per leggere, analizzare, conoscere, insomma, coloro che in qualche modo hanno rappresentato e rappresentano la storia della fotografia in Italia e nel mondo. Ma diciamo che è un libro che, a nostro modesto parere, può orientare i gusti non solo di chi ama espressamente, estrettamente o specificamente la fotografia, proprio perché questo titolo sulla fotografia e oltre ci propone un universo particolarmente interessante, lo citava lo stesso dottor Gusella, la presenza anche di personaggi come Andrei Tarkovski, lo ricordiamo, il grande cineasta compianto russo, di sacrificio, nostalgia, soprattutto di Solaris, un film che a suo tempo, insomma, rivoluzionò anche il concetto stesso di cinema e di fantascienza. Ma per esempio ci sono anche capitoli dedicati a Vittorio Storaro, a Stanley Kubrick. Esatto. Insomma, ci sono dei personaggi... Anche questi sono due bei personaggi, anche perché chiaramente Vittorio Storaro va riconosciuto appunto il grande contributo certamente cinematografico, ma anche quello che in questa circostanza ha saputo dare appunto attraverso un titolo molto efficace di una sua mostra che era La luce e il suo doppio. E credo che questo aspetto in cui in pratica coniugava dipinti di varia natura con la sua poetica cinematografica sia stato proprio un elemento anche molto caratterizzante, anche molto originale del dare letture in sinergia tra le diverse arti. Credo che questo sia un aspetto anche importante, no? Per conoscere, trovare riferimenti che ci aiutano poi spesso o quando si va a vedere un film, una mostra, o quando si legge un libro. Quindi credo che poi questi siano tutti elementi molto utili che aiutano anche la nostra conoscenza, chiaramente, perché fa parte, come dire, di un patrimonio significativo il fatto di aggiungere in qualche modo conoscenza a conoscenza ed è questo che poi consente anche lo sviluppo di processi di comprensione di quello che ci sta attorno. Cioè, diversamente, se non vi sono questi elementi diventa anche difficile ma per qualsiasi persona elaborare l'esperienza, tradurla e far sì che questa abbia significato e sia motivo di ulteriori esperienze insomma, ecco, cioè, non quindi limitarsi, come dire, a stereotipi tanto più, non voglio fare ovviamente il demonizzatore della rete però uno degli aspetti più importanti in questi tempi è che appunto di immagini siamo bombardati, no? cioè, usando un termine anche molto così però cominciare, come dire, a dare una lettura, una decodificazione come si suol dire, delle immagini credo sia importante perché questo aiuta in qualche modo a fare anche delle scelte, insomma e questo mi pare importante c'è tutto un discorso anche molto importante che sarebbe in qualche modo da sviluppare dalla scuola all'università cioè, come... che poi è un tema anche molto antico, insomma però l'educazione all'immagine sicuramente è uno degli aspetti che consente anche ai bambini di avere un rapporto importante, insomma, con i testi visivi e che consentono anche il loro sviluppo la loro formazione, la loro stessa creatività le forme di apprendimento e così via arrivare poi ovviamente a costruire le immagini è una cosa un po' più complessa che però spesso richiede anche questo tipo di analisi, di conoscenze è interessante quello che lei sta dicendo anche perché sono parole di un docente, insomma per cui una persona che è consapevole di quello che sta dicendo e soprattutto è consapevole dell'ambito a cui si rivolge ci permetta, dottor Gusella in base alle parole che lei ha usato potremmo estendere il concetto, per esempio di una materia di insegnamento come storia dell'arte che non è solo le sculture di Bernini, di Michelangelo ma potrebbe essere anche un qualcosa che ha a che fare con i grandi maestri della fotografia Cartier-Bresson, Man Ray, insomma anche proprio per un'analisi dello sviluppo stesso dell'immagine che parte da uno studio che ha a che fare inevitabilmente con l'arte per cui questo oltre è un guardare proprio al di là della fotografia come semplice scatto come semplice immagine ma comunque ormai la fotografia è diventata un elemento costitutivo di tantissime rassegne di tantissime mostre ormai una bella foto si può chiaramente e tranquillamente equiparare ad un bel quadro certo, assolutamente poi su questo tema del fotografare la scultura piuttosto che l'architettura ho avuto modo di dedicare almeno due testi importanti a mio avviso uno appunto è legato ad Aurelio Amendola appunto rispetto a Roma e rispetto appunto a quello che è stato il suo contributo sulla scultura del Bernini e un altro è stato secondo me un importante contributo di una fotografa padovana che si chiama Lucia D'Anesin che ha fotografato il campo santo della città e ha fotografato le sculture quindi mi raccontava che andava in momenti così dell'anno a ritrovare i propri cari a portare un fiore eccetera e quindi a ricreare quel momento di insomma intimità intimità che appunto sulla tomba dei propri cari e però c'era questo aspetto delle sculture funerarie putti, angeli e così via che sono diventati anche motivo di ispirazione e credo che Giovi molto ricordare che attorno al tema appunto della morte della commemorazione il significato anche simbolico dell'elaborazione del lutto trova anche poi nella fotografia tutto un suo riferimento molto pertinente ma anche molto efficace si pensi soltanto al fatto che pur ingiallendo le foto però resta come dire la silhouette magari l'immagine il significato del restare legati ai propri cari no? frasi anche come dire di assoluta quotidianità magari però nei momenti anche drammatici come quelli appunto della della morte una delle cose che in qualche modo si cerca di condividere tra i propri cari è proprio questa cioè del fatto appunto di avere la foto della persona cara perché questa rimane nel ricordo quindi nella vita e quindi in una risignificazione di quello che può in qualche modo essere l'elaborazione del lutto e soprattutto quello che ha rappresentato questa persona per i cari e per i familiari questo mi pare un aspetto importante insomma di quanto si può scavare attraverso l'immagine fotografica e di come si possa in qualche modo dare contenuto e far sì che appunto questa diventi non soltanto elemento così ma sia invece un motivo di approfondimento insomma della conoscenza come dicevo prima della della realtà e sono comunque cose complesse spesso perché ovviamente sembra che attorno a qualcosa che può essere come dire così fluttuante anche così di passaggio invece coloro che poi praticano le cose danno anche significati molto più profondi di quello che si possa immaginare insomma in questo caso come dire anche il contatto diretto con autori di questa natura ti consente anche di avere una comprensione maggiore e soprattutto anche di poter approfondire elementi che spesso non sarebbero così poi scontati ecco mai ovviamente dare per scontato quello che invece è anche il frutto come dire di una concettualità perché anche io penso che ovviamente molte delle nostre immagini a parte il fatto della complessità di definire come si costruisce un'immagine quindi come lavora la mente e il cervello per far sì che attraverso la percezione poi si sia in grado di rappresentare l'oggetto ecco però in qualche modo dare forma a un'idea e pensarla diventa anche il modo per cui come dire io ritrago in diagonale una certa realtà e perché so che da quello ne scaturisce una porzione di realtà con determinati connotati e questo mi pare un elemento anche importante ad esempio è tuttora in corso mi pare alla casa dei tre occi a Venezia questa bella mostra di Salgado se voi avete presente almeno chi l'ha vista è proprio da come dire immagine perfetta ricordare quella dei pinguini che scendono in fila sul ghiacciaio e che si tuffano e c'è un taglio della diagonale che è perfetto insomma c'è proprio veramente un lavoro di ingegneria fotografica straordinaria qui va dato ovviamente merito ma Salgado ovviamente è un gran maestro che sicuramente su questo ha pensato anche ad elementi di natura così anche estetizzante perché poi spesso si ritrovano anche in grandi autori che magari hanno fatto delle reportage delle immagini appunto anche drammatiche però sono diventate l'icona di un certo tipo di cultura basti pensare che ne so Eugene Smith Robert Capa il famoso miliziano e così via che poi tra l'altro voglio dire non finisce mai di destare interesse quella figura perché la letteratura è vasta sull'opera di Robert Capa e ritorna spesso di frequente per ovvi motivi perché poi insomma anche in quel senso le analisi le letture sono sempre molto ricche anche molto ghiotte tra l'altro ecco ci fermiamo un momento è molto interessante come vedete la conversazione rimanete con noi perché tra poco parleremo invece di come l'analisi del libro ma anche dello stesso nostro ospite di questa mattina Enrico Gusella si soffermi sulle caratteristiche del nostro territorio cioè il nord-est a tra poco ben ritrovati ben ritrovati seconda parte di 7 in punto anche per questo giovedì 22 maggio stiamo parlando di fotografia testimone d'arte però andando anche oltre il concetto di foto non a caso stiamo parlando nello specifico di un libro che si chiama Sulla fotografia e oltre edito da Aleman 10 e soprattutto realizzato da Enrico Gusella nostro graditissimo ospite di questa mattina critico d'arte e scrittore si è occupato di decine e centinaia di mostri che hanno segnato che la storia artistica del Veneto e del nord-est di questi ultimi dieci anni che è stato a lungo impegnato nella stesura di questo libro in cui tra l'altro raccoglie dei propri saggi analizzando un po' il fenomeno della fotografia nel tempo ma anche analizzando l'importanza dell'immagine avete sentito anche l'elaborazione del lutto attraverso uno scatto fotografico con Enrico Gusella in questa nostra seconda parte vorremmo analizzare anche quella che è una parte proprio contestuale anche alla nostra trasmissione e che ha un rilievo significativo nel libro che riguarda il nord-est insomma nord-est due nomi insomma citati nel libro e analizzati nel libro ma anche due nomi emblematici della fotografia triveneta cioè Gianni Berengo Gardin e Giovanni Umicini di cui tra l'altro vi mostriamo una foto molto bella di piazza delle erbe di Padova io ringrazio ma ha citato due grandi nomi ovviamente e si potrebbe definire questi due nomi l'espressione della glocalizzazione fotografica quindi fra centro e periferia perché Giovanni Umicini è di fatto padovano da vecchia data ormai per ovvi motivi Gianni Berengo Gardin è trapiantato appunto anche lui negli anni 50 a Venezia Ligure d'origine milanese e quindi in questo senso voglio dire il loro contributo al nord-est è stato sicuramente è sicuramente emblematico è assai significativo mi premeva però come dire aggiungere a questa coppia emblematica una pattuglia anche più estesa perché uno dei miei saggi anche che tra l'altro era anche in qualche modo portatore della mostra che si svolse alcuni anni fa era appunto a nord-est percepire un territorio e in quell'occasione appunto l'idea che governava questo tipo di mostra era appunto quella di mettere insieme una pattuglia di fotografi appunto dell'area nord-estina quindi Veneto Friuli e Trentino la cui lettura e analisi del territorio in qualche modo dava atto e significato del nord-est non a caso questo saggio nel libro si apre con una foto di Cesare Gerolimetto che questa non so se si riesce a vedere più di tanto comunque è Giardino Querini a Vicenza una foto del 2001 e in pratica era una mostra appunto pensata a questa con Italo Zagner che è l'icona della storia della fotografia italiana Italo Zagner e su cui appunto questa pattuglia i fotografi padovani non padovani triveneti che erano veramente moltissimi perché credo fossero almeno 25 raccontavano da Paolo Monti appunto a Raffaello Bassotto Giovanni Umicini Roberto Salbitani Orsenigo Chemollo ecco tutti questi autori ma anche altri ovviamente della scena triveneta raccontavano appunto l'identità in qualche modo attraverso le loro immagini del nord est e quindi questo era un modo anche per raccontare il paesaggio per raccontare il territorio e per raccontare anche in qualche modo un po' le trasformazioni che il nostro nord est ha visto nel corso di tanti decenni e l'immagine che faceva vedere appunto mitica di Giovanni Umicini del Bar dei Osei è sicuramente un'immagine dove non campeggia più tra l'altro quella scritta là e quindi questo è un aspetto di come raccontare anche di come attraverso le immagini in qualche modo fare storia di una realtà di un territorio e così via quindi credo che il contributo appunto di questi importanti fotografi sia stato anche quello di avere in qualche modo raccontato vicende a altri grandi ovviamente di cui ricordo e che va ovviamente citato proprio che è fotografo di Casarsa della Delizia un grande autore Elio Ciollo un grande bianconerista di cui ovviamente non soltanto ha raccontato la campagna friulana come le stands e altre località del Friuli ma anche con bellissime immagini ha saputo raccontare ma proprio raccontare veramente anche sul piano narrativo la stessa Venezia altri fotografi ancora di grande livello e prestigio sono stati sicuramente Luca Campigotto e poi appunto come ricordavo Gero Limetto i fratelli Bassotto ma anche Guido Guidi la cui come dire lettura del paesaggio è sempre stata molto originale e soprattutto focalizzata anche su caratteri come si suol dire di fatto astratti insomma ecco io credo che appunto a questi un altro padovano di sicuro interesse ma anche che su San Marco e sui cantieri navali appunto in quel caso di Venezia aveva dato un contributo importante Enrico Bossanna ecco ecco questi sono alcuni degli autori citati ovviamente ma come dire la panoramica e la pattuglia dei fotografi dell'area nordestina è sicuramente assai ampia e vasta però sicuramente giova a ricordare quelli che il contributo su questo piano è stato sicuramente significativo soprattutto in occasione di quella nostra che era appunto a nordest e quindi il paesaggio che muta e soprattutto un paesaggio da raccontare stiamo visualizzando un'immagine proprio di questo Elio Cioll che magari ai più può essere sconosciuto tanto per rendere un'idea questa immagine estremamente suggestiva di questa abbazia che è semi avvolta dalla nebbia sembra quasi un mare questa nebbia c'è una grande poesia che in qualche modo raccoglie tutta la ricerca fotografica di Elio Cioll che giova a ricordare è un signore di poco più di 80 anni ma come dire di un garbo di una poetica davvero molto sensibile anche molto particolare e in pratica è certo Elio Cioll una delle punte di diamante della fotografia italiana ma sicuramente nel Friuli ha dato un contributo importante nella rappresentazione del proprio territorio ecco sono personaggi proprio di questa natura che sanno poi come dire cogliere Cartier Bresson non l'avrebbe chiamato chiaramente il momento decisivo ma c'è veramente qualcosa che va oltre quel momento decisivo perché ovviamente l'aspetto empatico che fa della fotografia anche un aspetto poetico diventa invece motivo di riflessione motivo anche di apprezzamento e motivo anche per conoscere sotto un occhio diverso quanto ci sta intorno se non ci fosse stato l'occhio di queste persone ovviamente per molti di noi credo sarebbe stato anche più difficile in qualche modo avere un principio tra virgolette con la realtà o perlomeno con quanto ci circonda e con quanto in qualche modo ad esempio uno altro dei fotografi di area veneta Padovano e poi a lungo che ha operato a Venezia che ha costituito poi una scuola della fotografia di natura è stato Roberto Salbitani che su questo terreno e soprattutto anche sull'indagine uno dei suoi temi era la città invasa ed era proprio dedicato alla città vista attraverso tutte le forme di inquinamento visivo quindi tabelloni pubblicitari e tutta quella in qualche modo cartografia che spesso anziché consentire di leggere la città il territorio nella propria ricchezza e identità allora quando lui svolge questa ricerca negli anni 70 di fatto lo inquinava quindi questo aspetto in qualche modo per il quale loro diventano altri testimoni ancora ma coloro che documentano le diverse forme anche di territorialità non è un caso che poi negli anni una delle pratiche anche che si sono sviluppate sia stata quella della campagna fotografica attraverso cui appunto narrare quelli che erano i mutamenti il cambio di pelle di un territorio di una città cosa importante anche sul piano come dire dello sviluppo se si vuole anche è di una progettualità perché chiaramente se non vi è identità riconoscibilità del territorio poi se uno vuole progettare o altro non ha neppure come dire la capacità cognitiva di individuare che cosa sorgerà fra 10 e 20 anni e questo è uno dei temi che chiaramente farebbe bene assai per avere un quadro più oggettuale insomma della realtà e quindi però sul principio di realtà ci sarebbe un altro capitolo che forse noi per i momenti invece ne chiudiamo un secondo ugualmente interessante nella terza parte della nostra conversazione con Enrico Gusella parleremo anche di come questo libro sta viaggiando l'Italia e soprattutto anche della risonanza a livello mediatico e di chiacchiera di rumors che questo volume ha suscitato nel nostro paese a tra poco ben ritrovati ben ritrovati terzo momento di 7 in punto per questo giovedì 22 maggio è venuto il momento di parlare della diffusione e di come il libro sulla fotografia e oltre lo ricordiamo il curatore Enrico Gusella l'editore Aleman di EC sta facendo parlare di sé dicevamo in Italia grazie a Oscar Ci viene in regia che sta mostrando proprio il sito insomma la pubblicazione online di questa prestigiosa rivista che si chiama Ad2day e in cui appunto a primeggiare e proprio oltre che la foto del nostro ospite di questa mattina anche la copertina del libro stesso sulla fotografia e oltre tra l'altro una lunghissima intervista che scorre insomma per tutta la pagina che l'ha impegnata a lungo spero che i lettori l'abbiano trovata appassionante divertente perché è veramente molto lunga l'intervista di questa bravissima giornalista che è Sonia Sofia Braga che è una storica dell'arte tra l'altro specialista proprio nei beni culturali e niente quando io pure ho visto l'intervista ho detto l'importante è che si legga insomma nel senso che non può essere soltanto un discorso di quantità però insomma credo che sul piano del contenuto quell'intervista dia il quadro il senso anche della stessa pubblicazione del libro insomma che Giova ricordare appunto fu presentato in anteprima appunto nazionale alla casa dei tre occhi proprio in occasione della mostra di Salgado il 20 febbraio scorso poi le tappe sono state parecchie numerose altre come dire si prestano ad essere come quella noi stiamo parlando in diretta stamattina ecco vogliamo ricordarlo per non fare confusione con le date c'è un prossimo prestigioso appuntamento anche proprio per incontrare di persone Enrico Gusella perché ovviamente lo state vedendo alla televisione ma proprio per parlarne a quattro occhi insomma con l'autore l'appuntamento prestigioso all'Accademia dei Concordi di Rovigo in programma quando? è in programma appunto giovedì 22 mezzo alle ore 18 alle ore 18 per cui insomma preparatevi non solo Rodigine ma chi fosse interessato però Dottor Gusella non si esaurisce ovviamente all'Accademia dei Concordi la serie di appuntamenti vogliamo ricordare qualcuno tra l'altro delle prestigiose non solo date ma anche come si dice al giorno d'oggi location in cui il libro verrà presentato sì il libro sarà presentato poi a Milano al Mia Fair che è un importantissimo il più grande salone come si suol dire della fotografia italiana e quindi in questa occasione è sicuramente importante poi alla Galleria Ricci Oddi a Piacenza che è un importante museo d'arte moderna raccoglie importanti collezioni opere dipinti e poi anche ci sarà una tappa a Roma però non vorrei svelare tutto anche per noi una tappa romana anche addirittura e quindi io credo che magari sia bene come dire riservare anche qualche sorpresa al pubblico di volta in volta insomma ecco per avere ulteriori indicazioni sulle eventuali date c'è un riferimento online a cui si possono rivolgere ma faremo su Telepado no vabbè la battuta era doverosa noi ne siamo estremamente gravi ringrazio ovviamente per l'attenzione però no al momento no per cui però ci si può attrezzare ci può attrezzare però ricordatevi noi oggi siamo in diretta sono le 7 e quasi 40 del giorno di giovedì 22 maggio ricordate alle 18 insomma chi ha la possibilità non solo chi abita a Rovigo ma anche nei dintoni o chi magari voglia sacrificarsi per qualche decina di chilometri spostandosi da altre località del Veneto l'Accademia dei Concordi la più prestigiosa è prestigiosissima anche perché raccoglie bellissimi dipinti dal XV al XVIII secolo e quindi sicuramente non solo per me però voglio dire merita due piccioni con una pava merita sicuramente una gita a Rovigo insomma per cui è un'occasione anche perché poi credo che una delle cose importanti in genere quando viene presentato il libro è il cambio di attori di volta in volta nel senso che fino ad oggi ho avuto persone diverse che mi hanno presentato critici, storici, architetti, giornalisti ovviamente e antropologi e quindi di volta in volta come dire si si creano anche per chi ha scritto il libro conoscenze nuove e diverse perché sulla base di questo diventa anche nuova la lettura che dà colui che in qualche modo conduce la presentazione e questo mi pare un aspetto anche importante perché attraverso questo tipo nuovo di lettura contribuisce a creare un famoso professore semiologo linguista avrebbe detto a creare Fanchi che sarebbe stato Paolo Fabri ecco è uno degli intellettuali anche molto più raffinati della scena italiana internazionale perché è stato anche direttore dell'istituto di cultura a Parigi ancora negli anni 90 però appunto come dire costruire nuove conoscenze attraverso un testo diventa anche motivo di analisi di elaborazione soprattutto di confronto aiuta a far crescere anche chi l'ha scritto poi perché chiaramente come dire contributi diversi aiutano a far comprendere meccanismi anche di altre nature insomma ecco perché è un punto di vista altro che attraverso il quale si può in qualche modo avere un quadro anche nuovo diverso di quanto prodotto insomma questo mi pare un aspetto che tra l'altro dovrebbe valere per qualsiasi cosa insomma per cui come dire l'aspetto dell'apertura e della estensione dei contributi una cosa anche piuttosto normale che sarebbe un confronto insomma che magari si può fare quotidianamente gioverebbe a molti ecco non soltanto quando si scrive un libro chiaramente però credo che faccia parte appunto della complessità della quotidianità avere magari elementi nuovi diventa anche più divertente probabilmente no? soprattutto quello diciamo al rispetto però si preferisce magari restare all'interno di nuclei quando invece noi preferiamo andare oltre ecco il dottor Gusella ha citato la Francia ci piace ricordare anche i cugini d'oltrealpe con questa bella immagine qualcuno l'aveva chiamato il fotografo dei baci ci riferiamo a Robert Duanot di cui tra l'altro è stata curata una mostra proprio qui a Padova non troppo tempo fa e quanto secondo lei proprio l'immortalare i sentimenti così forti così immediati come il bacio può tornare utile alla fotografia? ma come dire fa parte sempre di quel momento decisivo e in questo caso dell'aspetto affettivo e quindi Giova aiuta a far sì che ognuno si riconosca all'interno di un momento affettivo sentimentale attraverso cui ovviamente è passato e sicuramente quello dei baci quello della letteratura legata appunto a quella che è stata basti pensare una foto molto celebre che ha fatto appunto la storia anche questa la fotografia è il famoso bacio davanti all'hotel Deville del 1955 appunto e che anche lì come per il miliziano la letteratura è vasta e ampia nel senso che si narra la storia che appunto per dare efficacia forza a quella a quel momento fossero presi appunto due innamorati e fossero in qualche modo immortalati in questo atto in questo momento sicuramente decisivo soprattutto che ha fatto storia quindi credo che quello che in qualche modo poi accompagna quelli che sono gli aspetti appunto legati all'affettività legati soprattutto credo al ricordo alla riconoscibilità cioè probabilmente una delle cose che maggiormente spesso attesta anche l'apprezzamento del pubblico diventa il fatto anche personale cioè il fatto attraverso cui è passato anche lo spettatore quindi probabilmente una lettura immediata di piacere di godimento estetico come si potrebbe definire passa attraverso il carattere della riconoscibilità ovvero ci sono stato ci sono passato e quindi fa parte anche di una mia storia e quindi ovviamente apprezzo e vivo con piacere quel momento e questi credo siano cioè non sono cose banali sono cose che ovviamente come dire concettualizzate in maniera anche così tra virgolette frivola però diventano anche motivo di quell'elemento di comprensione che aiuta poi invece a far sì che i nostri fatti quotidiani quelli anche più piacevoli diventino i fatti che poi caratterizzano invece anche la vita dei grandi artisti e che loro la sanno rappresentare nel modo adeguato quindi ovviamente gran merito a coloro che li hanno rappresentati però il merito va anche agli attori che comportano in qualche modo e che consentono anche l'attivazione di questo tipo di immagine soprattutto il fatto che poi su questo diventa come dire motivo di piacere la lettura di ognuno di noi è lo stesso motivo per cui chi di noi va a vedere uno spettacolo teatrale di danza o appunto ad ascoltare un concerto musicale nel momento in cui vede la scena che può rappresentare un motivo appunto di riconoscibilità di significato eccetera è quella che poi magari fa scattare anche l'applauso perché in questo modo si condivide una passione si condivide un'emozione che non si arresta mai come non vorremmo arrestarci mai noi ad ascoltare il dottor Gusella magari proseguendo fino alle 17.30 il tempo di lasciare al nostro ospite la possibilità di raggiungere la pinacoteca dell'Accademia dei Concordi dove lo ricordiamo oggi alle 18 viene presentato il libro di Enrico Gusella sulla fotografia e oltre edito da Alemandi e C noi non possiamo far altro che ringraziare Enrico Gusella critico d'arte e scrittore per averci parlato non solo di questo libro ma di averci fornito un'immagine eloquente di quello che la fotografia significa e in che modo anche leggerla e auguriamo buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo per la diffusione del suo libro crepi il lupo e grazie a voi quindi dovremo attrezzare battuta che credo sia meglio chiudere qui no grazie ancora grazie a Enrico Gusella noi ci fermiamo qui ultima parte di 7 in punto odierna dedicata ad alcune sorprese se vi fa piacere e avete voglia di impiegare un quarto d'ora del vostro tempo ci rivediamo fra alcuni minuti grazie a tutti 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 Grazie.